ciao a tutti sono veri videogames e oggi giochiamo a capitan spirit e niente andiamo avanti mettiamo nella camera di papà magari ci sarà qualcosa anche di emily cioè la mamma di chris ok vediamo qua cosa c'è c'è il comodino tutte di bere madonna mia che schifo aggiustiamo una chiave è caduta prendiamo la chiave ok prendi chissà cosa serve questa chiave o non si può ripulire no ok il metro guarda beh non direi che sei grande ancora sei piccolo ancora ai dell'armadio come mai l'armadio a serratura charles scusa per quello che ti ho detto l'altra sera ero incazzata perché sembra sempre che non mi ascolti quando mi sfogo il mio lavoro a volte molto stessante e so che stessa anche a te ed è per questo che voglio essere più coinvolta nella tua nella tua vita mi dispiace vederti così triste quando tu mi rendi così felice non vedo l'ora di conoscere tuo figlio ma la sensazione che tu ti vergogni di bene non arrabbiarti spero di sbagliarmi ma a volte dici delle cose che mi feriscono ci tengo tantissimo a te e volevo solo dirtero per farmi capire vedo un futuro insieme a te quindi spero che tu sappia che questo messaggio viene direttamente dal mio cuore la tua piccola ballerina audra e chi è audra bu magari sarà la ragazza con cui esce bu ho un amico caro charles erickson ho 12 anni e da grande voglio diventare un giocatore da basket professionista i miei genitori mi portano sempre a vedere le tue partite sei un grande l'ultima partita è stata la più bella della mia vita spero che ti chiamino a giocare nell'ambia grazie ci vediamo la prossima partita tonne l'alcol ti sta distruggendo la vita non sei solo possiamo aiutarti contatta vincere all'alcolismo sconti disponibile è questo che ha capito che il papà era alcolizzato gentile signore e signora erickson nonostante continue proroghe e garanzie ad oggi ci risulta il mancato pagamento della terza rata del mutuo cerchiamo sempre di comprendere di rispettare le varie situazioni dei nostri clienti tuttavia in questo caso il nostro ufficio ritiene di avervi concesso già abbastanza proroghe in mancanza del pagamento dal restante saldo entro la data di scadenza indicata ci vedremo costretti a pignorare questa proprietà cavoli ci auguriamo di poter risolvere presto la questione insieme a voi di senti saluti immobiliari clan andiamo bene insetto scolastico gentile allenatore erickson era un allenatore a scuola nonostante la nostra facoltà rispetto alla sua reputazione su impegno continuo le ricordiamo che è stato ripreso ben più di una volta per il suo completamento aggressivo la informiamo che a seguito del recente incidente relativo alle lattine di birra trovate in piscina dopo la chiusura abbiamo deciso di terminare il suo contratto con effetto immediato ci scusiamo per il disagio ma ci teniamo a ricordarle che operiamo sempre nell'interesse della sicurezza dei nostri studenti alleghiamo inoltre un opuscolo informativo con un numero a contattare per problemi di alcolismo sperando che possa aiutarla per il futuro distinti saluti ok quindi il padre aveva lavoro e l'ha perso perché si sono accorti che aveva problemi di alcolismo è perché era aggressivo ok padre mi ha comprato però non hanno molti soldi però hanno molti soldi come avrà fatto boh a meno che l'abbia aiutato quella tizia forse va bene ti conviene che la chiave la rimetti via però non me lo fa fare mi fa riaprire così lo capisce però che hai aperto l'armadio guarda ascolta ascoltiamo boh vediamo cosa succede adesso magari viene all'instanza e ce lo toglie ciao Grazie a tutti Grazie a tutti I love listening to mom's old records Fulanker I'm breaking the superhero code Oh, I could use this to make some cool armor Ok, dobbiamo cercare altri pezzi di costume I've never seen dad get that back It's really scary Ok, vediamo se è in bagno, troviamo qualcosa Oh no, I hate going to the Water Eater's Lair Welcome to W-H-E-R-O Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit Hello, Beaver Creek Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward He can't hide, but he can run We heard reports that he is putting together a team of supervillains Do you have any message for them? We will forgive them if they don't join Mantroid He is not worth it We have to live in peace Or you will destroy them That's my job And that's why we love you Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes I bet they're happy to hear that Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No Ok, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team Thank you Captain Spirit for being our hero And now back to W-H-E-R-O News Però ha molta immaginazione Chris I wonder what I can start to shave Superhero shave? Beh, direi di sì Ok, qua non c'è niente Mi diciamo che ha bevuto molto Eh sì, continua a bere Non serve a niente bere Now that's a nice cold one Cheers Man, now it's fast, Dad Well, excuse me Ok, I'll slow down, Chris This empty can is evil Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah Step aside, Mr. Erickson Captain Spirit is here to recycle Eh, you better hurry This can is going to destroy the town Mmm Man, that was too close Thanks Captain Spirit I'm always here to lead my team to victory Where is my hot dog, man? Non esci te la rivoluzione Voi divertiti con how done, man? Scatta una foto al tuo figlio Ricoperto di senape E poi inviacela Abbiamo un sacco di giochi esclusivi Di how done, man? In pallio ogni mese Cosa vuoi vincere? I can't see Dad selling homes Pensa al futuro Diventa un agente immobiliare Nel nostro corso di 10 settimane Ti segnerà tutto ciò che devi sapere Per iniziare a vendere case E realizzare i sogni Isabella è la migliore agente immobiliare Nel nord-ovest Ha partecipato a programmi radio Ed è stata votata come la migliore agente immobiliare Nel 2015 Che cacchi pre-registrati dicevano Non sconto del 10% Fai l'eroe alla HeroCon 2017 Partecipa anche tu HeroCon 2017 di Portland HeroCon 2017 Da 15 al 17 gennaio Centro di Portland Va bene, sono dei biglietti Ok, andiamo avanti All'attenzione di tutti i dipendenti Ultimamente i nostri uffici di Beaver Creek Hanno ricevuto vari lamentelli di quadro Passeggiati in clandestini in zona Sono noti per vari disagi causati in tutto il nord-ovest Quindi cercate di non rispondere All'eventuale provocazione Che potrebbero risultare in uno scontro Se doveste scontrare problemi E vi trovate in situazioni spiacevoli Rivolgetevi al vostro supervisore Per qualsiasi domanda Contattatevi via mail O venitemi a parlare durante gli orari di lavoro Grazie Oh, queste sono le pagine di dad's pages In modelle statistiche Cerca giocatori, squadre di stagioni Punteggi, indici, formazione iniziale Accedi e registrati Vabbè Va bene Direi che oggi possiamo finire così Vediamo cosa succederà la prossima volta Ok, se vi è piaciuto questo video Lasciate un like, commentate E iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao, ciao Ciao